Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono maullo941 e oggi siamo tornati con la serie delle 7 signori con i nostri gamberetti Allora ragazzoli, prima di partire col video e giocarci il torneo estivo, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che sta dando a questa serie Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come maullo941, link in descrizione E se volete supportare il canale con delle piccole relazioni potete farlo tramite il link che trovate in descrizione e tramite l'applicazione Paypal Detto questo, partiamo con il video Ok raga, allora noi abbiamo la partita del campionato estivo, giochiamo contro il Feyenoord Allora, io direi, io direi, in questo campionato estivo, che sinceramente i soldi ce li abbiamo, di giocare con i nostri, con le nostre seconde scelte Così gli facciamo assaggiare il campo, soprattutto quelli che noi dobbiamo andare a dare in prestito Quindi Johnson, al centro campo se non sbaglio abbiamo Cunningham, che deve andare in prestito A posto di Amponsa, possiamo far giocare, chi era l'altro che deve andare in prestito al centro campo Hamilton, Mariani, no, Esposito, Naga, Claudio, Raid Kuruma, no, Kuruma ce lo teniamo Tekududu, che deve andare pure in prestito Facciamogli fare una bella, Alvarez deve andare pure in prestito, vabbè, Alvarez niente E Adama, cioè, Adama deve andare in prestito, però noi dobbiamo venderci, dobbiamo vendere l'altro portiere che è tornato Che mo' non trovo Taylor, ecco, Taylor ce lo dobbiamo vendere, signori, quindi mettiamo al posto di McKinley che tanto non c'è Giochiamo con loro, raga, almeno gli facciamo assaggiare il campo Vediamo se riusciamo a ottenere delle proposte dalle loro brutte figure che faranno in queste partite Ce ne giochiamo magari due con loro in campo E poi l'ultima che tanto saremo già fuori dal girone Ce la andiamo a giocare, infatti abbiamo perso 3 a 1 Mariani e Sullivan, bella così Vediamo se si lamenta qualcuno, se lamenta qualcuno siamo nella marmellata Se non si lamenta nessuno, va bene così Usciremo dal girone, però va bene Aggiornamento dati Anzi no, raga, gli abbiamo fatto giocare semplicemente alla prima Ai panchinari, così si sono fatti un attimino vedere E ora rimettiamo la squadra, la squadra titolare Allora, stiamo calmi Aggiornamento mercato, non ci interessa Allora, chat giocatori, sono felice che abbia deciso di vendermi Ciao, sono d'accordo comunque Sullivan è contento che lo vendiamo Teco Dudu Grazie, siamo d'accordo Ehi Adama, lo mandiamo in prestito, raga Nei commenti mi avete scritto di farlo allenare Io penso che se noi, se lo mandiamo in prestito, può comunque crescere abbastanza bene E Cunningham, siamo d'accordo Pure lui, lo mandiamo in prestito Ehi Adama, penso che se lo mandiamo in prestito Se lo teniamo, raga, allora non penso che possa crescere più di tanto Perché lo possiamo fare allenare tanto Ma vedrà il campo praticamente col binocolo Invece se magari lo mandiamo in prestito Comunque un 64 Quindi non scherza praticamente Può, secondo me, essere un ottimo elemento Anche perché comunque come secondo partire avremo Brennan Che è diventato un 70, raga Secondo me questo inizierà a pretendere di scendere in campo Allora, andiamo a cercare la partita col Benevento Siamo ancora in corsa perché Copenaghen e Benevento hanno pareggiato Quindi siamo ancora in corsa per questa bella coppetta Quindi torniamo con i nostri titolari inamovibili, signori miei Ovvero Johnson esce per Claudio Facciamo Claudio, Naga perché Morris è leggermente stanco Qui gioca Casa Dei, va bene A centrocampo andiamo a mettere Amponsa e Raid Ok, Nicholson sulla sinistra va bene Qua andiamo a rimettere Mitchell Qui mettiamo Watz no Dobbiamo avere Lima, la bestia Lima E qui mettiamo Salazar Drollo qui e Taylor a posto di No, Taylor la continua a giocare perché McKinley è ancora in nazionale Va bene Detto questo, sì Andiamo in campo così, raga Vediamo se col Benevento riusciamo a portarci a casa i tre punti Andiamo a simulare la partita contro il Benevento Non che sia una partita per la quale Però anche perché comunque i soldi non è che ce ne servono più di tanto Abbiamo perso 3 a 2 contro il Benevento, signori miei Porca miseria In gol Naga Nicholson è uscito il Raid per Mariani Come ha fatto a perdere 3 a 2 contro il Benevento? Hanno trovato il gol della vittoria all'ottantesimo con Diaby Complimenti a Diaby Complimenti a Diaby Bravo lui Va bene, quindi siamo fuori dalla competizione Sì, siamo a zero punti Siamo completamente fuori Avessimo fatto magari un punto in due partite Ancora ce la potevamo giocare Benevento ci siamo completamente fuori Ultima partita che ci andiamo a giocare contro il Copenhagen Ultima partita che ci andiamo a giocare contro il Copenhagen Non arrivano messaggi Non arriva niente di interessante Allora qui facciamo nuovamente tutti i cambi Della situazione Facciamo giocare Johnson Facciamo giocare Teco Dudu Facciamo giocare Sullivan Facciamo giocare Nuovamente Cunningham Tanto siamo fuori Noi raga Cunningham e quell'altro che dobbiamo dare pure in prestito al Varets No, al Varets forse ce lo teniamo Non mi ricordo Esposito sulla sinistra Qui gioca nuovamente Watanabe Qui mettiamo nuovamente Watz Ed Hamilton Se la giocano loro Sulla destra non abbiamo nessuno raga Sulla destra abbiamo solamente Drollo E dobbiamo cercare un TD da mettere su quella fascia In porta mettiamo E' Adama Così vediamo se troviamo qualcuno che solo viene a prendere in prestito E detto questo scendiamo in campo Detto questo scendiamo in campo contro il Copenhagen Vediamo se riusciamo a fare magari un punto Un punto in tutta la competizione Abbiamo due sconfitte su due No, abbiamo perso 5-0 Bella così Tripletta di Manotas Un gol di Kaufman e un gol di Stage Che torneo di marmellata Che torneo di marmellata raga Tre partite e siamo finiti fuori Ok, va bene Ci hanno dato il primo torneo Che forse è un primo di consolazione 1.200 dai, non è male 1.200 comunque è un buon bagno È un'altra parte di spingere Di guadagno Abbiamo 7-6 Di budget per gli acquisti Noi per ora non facciamo nulla Andiamo a fare un momento degli allenamenti Raga E in questo video andremo avanti Fino al primo di agosto Vediamo che i giovani arrivano Andiamo a allenare i centrocampisti Centrocampisti, Dudu, Red, Cunningham Allora, Dudu se non sbaglio Andiamo a andare in prestito Anche Cunningham dobbiamo andare in prestito Vediamo Cunningham e mettiamo l'altro centrocampista che chi era? Alvares che se non ricordo male Alvares abbiamo detto che ci dobbiamo tenere intercettazione contro la piede scivolata, bravo si, perché poi sono questa cosa intercettazione, normale suggerito no, allenati su questi dai allenati su questi aumenti anche un po' di velocità vedi, arriverà a 60 vediamo di farti in dare un centrocampista ok, iniziamo andare avanti, siamo in championship signori miei, siamo in championship, adesso le cose si fanno serie più pesanti serie e più pesanti, vediamo se iniziano ad arrivare delle offerte, raga, offerta del trasferimento per Sullivan, oh, perfetto Sullivan, ce la dobbiamo sballare, Brennan è il nostro secondo portiere che non dobbiamo toccare Sullivan, allora lui vale vale 625 si, loro me ne offrono 5,50 ma non esiste, andiamola a trattare, Papa Maullo, esci le tue doti da Jedi e convinci questi che stanno venendo a prendersi Brennan o Sullivan, allora 5,50 no, allora a 28 anni, capisco che non possiamo pretendere chissà quanto, ma almeno 600 li voglio almeno 600 me li devono da almeno 600 me li devono dare dico, ok, perfetto, va bene non ho voluto spingere più tanto, raga, perché ce ne dobbiamo liberare di Sullivan, quindi va bene così, va bene così prima offerta arrivata per un giocatore che dovevamo fare fuori, dai è così vediamo se arrivano le altre andiamo avanti col calendario la vedo difficile quest'anno la offerta per il prestito di Brennan fermi tutti vogliono Brennan in prestito Brennan è il nostro secondo portiere no? Brennan è il nostro secondo portiere che in teoria non è in prestito, Brennan contattato da Deuce, è un 70 potremmo dare Brennan McKinley è il nostro titolare ok, Taylor è quello che rompe le scatole ed è sul mercato potremmo dare a Brennan e tenerci le dama, perfetto, mi va bene rimuovila dai prestiti, le dama ce lo teniamo e andiamo a dare Brennan in prestito ok, l'importante è che un portiere se ne vada che uno dei due giovani vada in prestito accetto offerta al Dusendorf dai, Brennan lo mandiamo in prestito ragazzi miei così vediamo se riesce a crescere bene e ad ama quindi così ce lo teniamo speriamo di riuscire a vendere Taylor signori miei sarebbe importante vendere Taylor offerta per il trasferimento per McKinley no, 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 no McKinley non se ne va completamente raga McKinley al 19 anni è il nostro portiere titolare non se ne va proprio il Salisburgo addirittura ce l'ha chiesto McKinley chi è che parla? è ad ama ora che ha cambiato idea riguardo a mia scelta si, 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 tranquillo tranquillo, è ad ama sarai uno dei nostri giocatori per la prossima stagione Salivan venduto oh, perfetto abbiamo fatto spazio su quella fascia abbiamo fatto spazio su quella fascia fermi tutti è triste essere real a Johnson tenevianna offerta per il prestito di Watts ok Watts lo dobbiamo dare pure in prestito chi lo vuole lo Sheffield United dove vogliono in prestito accetto offerta Saz Watts scusami no no, Saz Watts va in prestito e cerca di tornare più forte Brennan andato in prestito e Salivan venduto ok si sta muovendo bene il mercato Johnson è triste e la tua opzione è miglia a Johnson tenevianna senza troppi giri di parole allora raga noi dobbiamo fare una cosa invece di fare una ora le sessioni di allenamento me le sistemo poi io off camera promesso però noi dobbiamo mettere e Adama sicuro che si deve allenare deve diventare il nostro nuovo portiere poi a centrocampo se non sbaglio abbiamo Alvarez che deve crescere e gli andiamo a dare non tanto questa tanto quell'altra che avevamo visto prima difficile no 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 facciamogli fare qualcosa questa intercettazione un elettore difensiva controllo piede scivolata ecco lavora su questo anche perché sei un COC ma devi crescere sulle basi poi abbiamo sulle ali se non sbaglio abbiamo Kurma che deve crescere pesantemente velocità scatto controllo vada dribbling ok poi andiamo a mettere qui Teco che mi deve diventare un ottimo panchinato e ultimo ma non ultimo andiamo a vedere difensori centrali no terzini dobbiamo ancora comprarlo difensori centrali Vaz va in prestito Hamilton un 70 Harwood 73 Salazaro un 73 Hamilton facciamo crescere Hamilton anche se c'è questo Gomez che è in panchina che è in primavera ma lasciamolo stare lì Gomez Hamilton facciamo crescere Hamilton me lo alleni in questo anche se già lì è 80 però va bene alleniamo loro raga per questo episodio concentriamoci su loro poi fine episodio vedo di sistemare a fine mercato ecco mettiamola così per ora le alleno loro raga fine mercato vediamo un attimino di capire chi è che rimane in squadra e chi è che non c'è più offerta la squadra Laurent ha interessato ad acquistare no acquistare non se ne parla rifiuto offerta acquistare in prestito per un anno accettiamo pure questa cosa dice Salazar invece lo vogliono comprare e rifiutiamo Salazar non se ne va ok 8 milioni per Salazar raga offerta del trasferimento per Morris no 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 raga stanno arrivando le offerte sui giocatori sbagliati stanno arrivando le offerte sui giocatori sbagliati chi è che parla Johnson ha Johnson è la top 6 milioni tenetevi andare Johnson ha Johnson mio tenetevi andare tenetevi andare Johnson mamma mia sto The Rock dei poveri si è proprio attaccato a sta squadra a Yadama sarà 65 grande Yadama grande Yadama bello così bello così bello così andiamo avanti raga abbiamo detto che ci fermiamo al primo di agosto ci fermiamo al primo di agosto vediamo se arriva qualche offerta interessante interesse per offerta per il trasferimento di Taylor ok Taylor è il portiere che dobbiamo fare fuori giusto quello che si è lamentato l'anno scorso che voleva giocare si andiamo a controllare se è giusto allora Yadama ha il nostro secondo per te McKill è il primo Brahman l'abbiamo mandato in prestito Taylor lo possiamo vendere perfetto ok io devo fare un attimo sembramente locale raga offerta del trasferimento per il Taylor lui vale 2 e 4 me ne offrono posso andare fra 1.5 e 2.3 scusatemi perché se ne vale 2 e 4 dovrei chiederne solo 2 e 3 andiamola a trattare allora andiamola a trattare dove che chiudiamo il video raga andiamola a trattare signori miei cioè vale 2 e 4 io massimo posso chiedere 2 e 3 ma di che stiamo a parlare allora siamo completamente fuori squadra fuori 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 completamente me ne voglio 2 e 8 la spariamo alta raga la spariamo alta rischio rischio raga la spariamo alta ma loro la sparano sempre alta io c'ho dei consulenti di mercato che sono degli stupidi cioè gli ho sparato 2 e 8 pensando che si arrabbeasse e invece hanno accettato 2 e 8 va bene ok al rangers va bene ok contenti loro contenti tutti non so chi sia questo stergyu non me lo ricordo completamente però ragazzoli detto questo vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti nel prossimo video no il prossimo video già inizia il campionato raga ma di che stiamo a di prossimo video già inizia il campionato ottimo perfetto ottimo il 31 luglio contro il derby mamma mia guardate che mese di agosto che ci aspetta pesante detto questo ragazzoli vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggerimenti noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo per un prossimo contenuto bella raga ciao 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 ciao